Il 21 aprile per noi romani è una festa importante perché è il Natale di Roma, ma è il giorno che io voglio oggi sottolineare, è il giorno più importante per la cristianità. Oggi si ricorda la festa della Pasqua, il fatto della Pasqua, il fatto che per i cristiani quel Gesù di Nazareth, che due giorni prima, il Venedi Santo, era morto in croce, è risorto ed è apparso ai suoi amici. Questo è il fatto che ha veramente spaccato in due la storia, c'è un prima e il dopo Cristo. Dell'esistenza storica di Cristo sono tutti certi e sicuri, della sua divinità, ecco, lì entriamo in un campo in cui ci vuole il salto della fede. Però questo fatto ha veramente determinato uno sconvolgimento nella storia e anche, come dire, un grande sviluppo in termini di umanismo, di miglioramento delle condizioni non solo sociali ma anche spirituali di gran parte dell'umanità. È forse il giorno più importante dell'anno.